Io vado da Don Francesco di Marzo e Don Francesco ti abbiamo sentito spesso, però voglio dire in questo momento in particolare con la statua di Maria Santissima della Bruna addobbata anche di una nuova veste, davvero è come se volessimo ipotizzare un futuro nuovo anche per questa città. Sì, l'abito nuovo sta a indicare il giorno della festa, è la comunità di Matera che ha rivestito dell'abito bello la nostra immagine, l'immagine di Maria Santissima della Bruna e come noi abbiamo rivestito lei con l'abito bello chiediamo a lei, la nostra mamma, che ci rivesta con l'abito nuovo della dignità riconquistata di figli di Dio. Tra le sette opere di carità corporale venne una molto bella, vestire gli ignudi, non è un vestito materiale certo, siamo tutti ignudi quando priviamo noi stessi e gli altri della loro dignità, quando calpestiamo la loro dignità. Rivestire gli ignudi significa quindi ridare libertà, speranza, conforto, consolazione a tutti coloro i quali è stata negata questa possibilità. Noi Maria abbiamo rivestito la tua immagine con l'abito nuovo, tu rivestici e avvolgici con il manto della tua misericordia e della tua tenerezza.